Boys and Grylls, era veramente da un sacco di tempo che non facevamo dentro a un video quindi questa qui è un pochino una sorpresa per voi, comunque Prima di iniziare con il video vi voglio parlare di una cosa perché magari qualcuno di voi se l'è perso, qualcuno non ci ha fatto caso eccetera eccetera, bene Come sapete è uscita la mappa Icons of Italy di Lavazza dove praticamente è rappresentata la mia cameretta, la mia stanza che l'avete già vista nel video dedicato E poi c'è una challenge da fare, io voglio parlarvi proprio della challenge in questo caso, andarvi a far vedere più o meno di nuovo il mio percorso per cercare anche di battere il mio record Comunque come potete vedere qui chi farà il tempo più veloce vincerà una macchietta del caffè, Lavazza per Fanatic, quindi brandizzata Fanatic a modo mio Desea Poi il set di tazzine dei Fanatic Lavazza e poi un setup Fanatic Gear dal valore di 270€, in più gli verrà regalata una sub al mio canale annuale, questo l'ho deciso io Quindi boom, andiamo, iniziamo e vediamo se riesco a fare meglio di quanto avevo fatto precedentemente l'ultima volta Vediamo se riesco a battere il mio tempo Oh Carca Madonna questo che odio Bah È semplice, è semplicissimo questo, devo solamente guardare, girare e premere A per andare a sinistra Devo battere il mio tempo che mi pare sia 11 minuti Carca Vi ricordo a tutti che poi dovete condividerlo o su Twitter o su Instagram utilizzando i giusti hashtag e i giusti tag Ok Porca Big chilling Questo è come quello di prima Però Però casco giù Big chilling George Il tuo punteggio lo batterai al 100 Porca Ok Madre Fuck Bravo Bravo e bello Va Ma dai Questo devo farlo tutto in una botta saltando L'ho premuta la barra spaziatrice Poi devo mettere la double cam per farvi vedere che l'ho premuta la barra spaziatrice E Ecco di nuovo Oh No 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 Eh no Ma questa è una crepa Namu Ok Una bomb E ora Vabbè questa è una cazzata Mamma mia L'ultimo che ho fatto andare sotto Da dove vado Come perdere tempo Bye Giorgio Mi sono uscito per sbrigarmi Easy No Perfetto No Ok No 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 Non ho saltato No Olle Grande mago Grande mago Bower Olle Fatto 8 minuti e 46 Ho migliorato il mio tempo Fa comunque schifo Mi chiedo di sapere se c'è qualcuno Che è riuscito a farla in meno di due minuti Per il resto Io Vi lascerei Spero vi sia piaciuto E vi siate divertiti Con questa piccola intro Divertitevi con il video See ya Che vinca il migliore E ci faremo anche una colazione assieme Con la pazza See ya Va bene Allora spiego quello che stiamo andando a fare Gli e Ciccio siamo stati invitati a partecipare a questo torneo For fun Anche se ci sono 100.000 dollari Di Montepremi Praticamente giochiamo nella modalità Marvel Knockout E niente Ah un bel comeback su Fortnite Prima partita dovrei avere Iron Man Ho Doom Il raggio di Iron Man E questo Fatto la prima Vai morto Fatto 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 Ottimo Preso GG La prima è andata Buona così Fatto la prima kill C Ottimo Fatto Vai vai Fatto Volo io Non prendo danno Ok C Bravo C E dai Bravo Prioghi il nostro No mi hanno ucciso Cazzo mi hanno ucciso all'ultimo C mi hanno chiuso in due No C mi dispiace E io ho provato a far più danno possibile Ma dobbiamo provare forza a focussarne uno E buttarcici addosso Non lo so Eh Sono bravi Che devi fa Eh lo so Eh sono bravi Sono bravi Sono bravi Sono bravi Hanno avuto Sono stati bravi 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 Io non ho niente per distruggergli le strutture se non il raggio Però se uso il raggio mi comincia a sparare doom no One shot Fatto Che cazzo questi ho Eh Fuck Va bene Perde contro questi E come perde contro un'altra volta Ai francesi No 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 Prendiamo sub edificio più alto E ci smashiamo contro di loro Di cattiveria Va bene Eh devi usare l'abilità quella per saltare Te che ce l'hai No dico te Tu che ce l'hai Per andare sopra a qualcosa In modo che non ti può raggiungere Hulk No non mi fa fare Oh non mi fa fare l'abilità Power te lo giuro Power non mi fa fare Ah Tu c'hai le due abilità Devi usarne prima una Poi un'altra Cioè devi riuscire a temerarle Eh no c'hai le prime due kill Le prime due kill Eri sempre giù E non eri sopra le case E abbiamo vinci almeno tre round Dobbiamo arrivare almeno alla semifinale Se arriviamo alla semifinale facciamo un botto di punti Non so dov'è Ferito Dottor Doom Fatto Devo andarmene via Eh cazzo Fatto Bene Fatti due Bene 150 Fatto L'ho parato Resisti resisti Non mori Non mori Eh Non ce l'ho più Non ce l'ho più l'abilità per volare C'è sto provando Mi hanno buttato fuori Ok Sto volando Perdo tempo Bravo Mamma mia ho fatto quella doppia alla fine Andiamo subito sulla casa Cazzo Che male Devo scappare Bravo Bravo Ciccio Mamma mia come l'abbiamo tenuti O che sia vita Ce la fai Eh no Non credo Sì che ce la fai Merda Occhio No merda Cazzo Dobbiamo scendere menaglie Dobbiamo scendere menaglie Non ci credo Non ci credo Io non riuscivo a scendere Siamo dodicesimi Su sedici Siamo sotto metà classifica Dobbiamo riprenderci E fare meglio negli altri round Stiamo facendo malissimo Buono Bravo Bravo Ho fatto un altro Ok ok Tu è morto Puoi vivere Puoi vivere Senza morire Tranquillo Tranquillo Devo fare più danno possibile Io Devo fare più danno possibile Ciccio Voi ci vado aggressivo Basta Eh cazzo Ok 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 Bianco Ce la fai Guarda è morto quello Quello è morto Bella O iron man Dove è Vado la Buono Cento Da andiamo Ce la fai? Bravo Ce la fai che sto tornando io Cerca di scappare Ho fatto male No L'hai spostato Peccato Menaglio Menaglio Cento Menaglio Menaglio Vai bravo Cominciamo a Cominciamo a Aspetti che torno Tranquillo Via col cazzo Ma è entrato nel pavimento Ma che cazzo succede Non posso più usare le abilità Perfetto Mi si sono Baccate le abilità Fatto Dov'è il loro Iron man Il loro Iron man è ferito Il loro Iron man è bianco Bravo Brevissimo Quando è sceso Io ho l'abilità Baccateci Tipo Tipo Almeno la mossa Di iron man Non mi traccia Le persone Fatto Bravo Bravo M'ha ucciso Devi rimanere in vita È l'unica cosa Che puoi fare Se rimanere in vita Abbiamo vinto Toscopici Quanto scopi Bravo 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 Mi si erano buggate Le abilità Ma te pare normale Fatto Fatto 150 Quanto Bello Tranquillo A me il loro Cosa mi distrugge Niente A me il loro Doom C'è qua Non posso fare niente Io Se mi avvicinavo A Doom Mi Volava e mi sparava Che cazzo 16 punti 16 punti No Non ci credo 18 punti Se vincevamo quella semifinale Avevamo 18 punti Però vinciamo 19 E per quel game Che zella Porco Il secondo E il terzo Game Buttato E qua Che non abbiamo Passato la semifinale Perché se no Avevamo quei tre punti Extra E eravamo Ottavio Quelli 80 Ne vogliamo parlare 80 Ma i coglioni 80 Ti ringrazio Per i game Un saluto Ai paguri Grazie a voi Grazie a voi A tutti quanti Peccato E vabbò Grazie a voi